In attesa di un'estate il cui decollo climatico stenta a venire, a Gubbio da sabato 2 agosto riapre al Chiostro di San Francesco l'annuale rassegna libraria promossa e organizzata da Fotolibri Gubbio, un libro per l'estate, patrocinata da associazioni, enti ed aziende private. Non solo una libreria dove consultare libri, ma anche un luogo dove discutere, oltre che un mercato dove acquistare. La formula, che ha già annoverato negli anni passati pregevoli successi, si ricordi, uno su tutti, l'incontro con Luigi Bisignani, ritratto nel libro L'uomo che sussurra ai potenti, resta quella canonica. Apertura dello spazio dedicato alla consultazione dei libri e al loro acquisto tutti i giorni, compresa la domenica, ma ad eccezione del martedì, dalle 10 alle 12, dalle 15.30 alle 19.30, con qualche novità sul fronte editoriale. Da quest'anno, infatti, la libreria Gubbina di Maurizia Baccarini entra nel mondo dell'editoria come EFG, acronimo di Edizioni Fotolibri Gubbio. Insieme ai libri delle maggiori case editrici, il pubblico troverà così l'Arca Vecchia di Sant'Ubaldo, Memoria e Rappresentazione di un Corpo Santo, di Francesco Mariucci, a Gubbio prima di Icuvium, di Dina Castellani e l'Universo nel mio giardino di Mario Pierotti, appartenenti rispettivamente alle collane Studi e Ricerche, Narrativa e Fotografia. Non mancheranno gli incontri con l'autore per aprire spazi di dibattito. Inaugura, in tal senso, sabato 9 agosto alle ore 16.30, Mario Pierotti con una mostra di foto, alcune inedite, tratte dal libro L'universo nel mio giardino, nato in occasione dell'ottava giornata per la custodia del creato.